I cittadini fanno bene a scendere in strada e a bloccare i caselli autostradali, a dirlo è Marco Bussone, presidente nazionale dell'UNCEM, l'Unione dei Comuni e degli Enti Montani. Sindaci e abitanti dei 112 comuni, che tra Lazio e Abruzzo sono attraversati dalle A24 e A25, torneranno a manifestare sabato mattina. Dalle 10 alle 12 ci saranno presidi ai caselli e svincoli Castelmadama, Vicovaro Mandela, Carsoli, Magliano De Marsi, Celano Aielli, Pescina, Cocullo, Sulmona, Pratola Peligna, Colledara, San Gabriele, Torni in parte e Valle del Salto, con il comitato che da quattro anni opera per dire no all'aumento. Il 7 maggio invece la protesta si sposterà a Roma con un presidio davanti al Ministero dei Trasporti. Nella bozza del piano economico finanziario, atteso da quasi 10 anni, presentata dal commissario fiorentino, nominato DOC dal Consiglio di Stato, è previsto un aumento dei pedaggi di circa il 16% all'anno. Entro il 2030, viaggiare sulle infrastrutture gestite dal gruppo Toto costerà il 375% in più, per un prezzo di oltre 2 euro per ogni chilometro percorso. Una mazzata per chi usufruirà dell'unica efficace infrastruttura che collega l'Abruzzo alla capitale. Le lettere a Draghi, ai ministri e ai parlamentari esigono risposte, ha detto Bussone, Chigi non si volti verso Roma ma guardi all'Abruzzo. E ieri pomeriggio a Montecitorio è intervenuto alla Camera il capogruppo di Fratelli d'Italia, Lolo Brigida. Gli aumenti sono deliranti, ha dichiarato l'Onorevole. Due autostrade, l'A24 e l'A25, uniche strade di collegamento veloce con l'Abruzzo e un pezzo del Lazio, sono oggi in condizioni di non vedere possibile investire su quelle tratte e in più vedere i cittadini di quelle aree gravate dal rischio di aumenti deliranti in termini percentuali in una fase normale, ma in una condizione economica nella quale si trova l'intera Europa, l'intero mondo, l'intera Italia, ma in particolare quelle aree della nazione, sono davvero insostenibili. Lolo Brigida in Parlamento ha definito completamente inadempiente il Ministro per le Infrastrutture, Enrico Giovannini, invitandolo a recarsi e a riferire in aula. Se il Ministro non è in grado di risolvere il problema, allora si dimetta a tuonato il Meloniano.